Perché ce la fai benissimo Dove sei di bello? A Creta Adesso vi faccio vedere la vista Da camera nostra Perché, ah, ecco, intanto Per prima cosa volevo farvi vedere la resa di fondamenta Cioè, lo vedete quanto Uniforma Uniforma bene, è luminoso Non troppo, però comunque È luminoso Cioè, cacchio, sono tutta uniformata Ma comunque Cioè, è second skin Cioè, pazzesco Comunque, scusate la faccia, raga, eh Però, allora Ecco, questa qui è la vista che noi abbiamo Dal nostro tiazzino Cioè, per dirvi Così per dire Allora, che fai di bello ora? Adesso mi trucco, appunto Poi vado a far colazione Torno qui a prendere le ultime cose Andiamo a fare le foto e poi ci spostiamo Di hotel Adesso, raga Correttore Born this way Vi copre l'anima Io ho delle occhiaie paurose E Che belle le unghie Vado a riparle Da 24 Comunque Questo Cioè, questo correttore Vi copre Tutto Tutto E non fa spessore Cioè, lo amo Piastra per fare i boccoli Promosso Bocciata Quale piastra per fare i boccoli? Cioè, quale? Intendi Io ne ho una di tre È carina Però onestamente Non la utilizzo Cioè, io per fare i boccoli Spesso la GHD normale Con cui trovo Vedi Sto Cioè, mi faccio i boccoli I capelli Cioè, tutto quanto Allora, il correttore Si chiama Born this way Ed è di Too Faced Adesso vi faccio vedere Anche qui La resa GHD Gold Io non ho la Gold Ne ho un'altra Molto più vecchia